Il quarto viaggio in Asia di Papa Francesco è stato un viaggio, l'abbiamo visto tutti, straordinario. La prima visita è stata in un paese, lo Sri Lanka, devastato da 30 anni di guerra civile e qui il Papa ha testimoniato e predicato la necessità della convivenza e della collaborazione tra religioni diverse, con frutti che si sono visti subito. Il Presidente che era stato appena eletto ha nominato al posto di un governatore militare un governatore civile nel nord dell'isola e ha liberato 200 prigionieri politici, quindi una prima missione compiuta. La seconda parte del viaggio nelle Filippine è stata completamente diversa perché il Papa è arrivato dopo Paolo VI e Giovanni Paolo II nel paese cattolico più popoloso dell'Asia. Qui è stato accolto in modo straordinario, i media hanno parlato di diversi milioni di presenze intorno al Papa e è stato salutato con un affetto straordinario, davvero straordinario e accompagnato dal Cardinale Tagle, l'Arcivescovo di Manila, che ha ben rappresentato questa giovane chiesa, una chiesa che punta molto sulle famiglie che il Papa ha incontrato e a cui ha affidato la custodia della persona umana e la custodia del creato.